Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video recensione Allora, questo video è stato richiesto da tante di voi Io all'inizio sinceramente non le avevo prese perché per me pagare delle gallette 6 euro sinceramente un po' troppo però devo dire la verità che mi ispiravano tanto Quando poi ho ricevuto una serie di vostri messaggi perché avete visto che non le avevo recensite nel chiedermi proprio, volevate un mio parere Così ho fatto un suddaggio su Instagram e ovviamente ha vinto il SIA Sinceramente sono stata troppo contenta perché io già volevo provarle però ho detto vabbè Però comunque dobbiamo dire che non sono gallette tradizionali che si trovano al supermercato La differenza sta proprio in questo La differenza sta proprio nei valori in sé ma anche proprio nel gusto Ci sono dei gusti molto particolari che non si trovano al supermercato Allora, sto parlando delle nuove gallette che sono uscite sul sito di All Supplement Avete sempre il mio codice sconto, ormai lo sapete Ma aprite l'info box perché nell'info box vi lascio sempre oltre al mio codice sconto che è Giulia 010 Anche il link direttamente a tutti i prodotti Quindi accedete da lì e subito fate Allora, il marchio è Snack e Jax Sì, Snack e Jax Se di sì che si pronuncia così E ci sono tre gusti Iniziamo da facciamo uno dolce, uno salato E poi concludiamo con quello salato Con quello dolce, scusatemi Perché ci sono due dolci e uno salato Allora, questo qui è gusto caramello Io non ho mai visto una galletta a gusto caramello O quelle di mais O quelle di ris O proprio se vogliamo esagerare Le gallette ricoperte proprio con sopra il cioccolato Che sono spaziali Io le prendo all'Eurospin di solito E sono la fine del mondo Allora, vi dico Cosa c'è scritto qui Ok, niente di particolare Quindi vi leggo direttamente i valori Allora, per galletta Quindi per 13 grammi Quindi presuppongo una galletta A 51 calorie Dovete comunque Ok, 51 calorie Ma comunque dovete pensare che è una galletta Al caramello Che va bene, per me va bene Come calorie Grassi 0,3 Carboidrati 11 grammi Fibre 0,2 E proteine 0,7 Assaggiamo Allora, in totale Il pacchetto è da 159 grammi Comunque, raga, è enorme Io penso che la galletta sia molto più grande Rispetto a quella tradizionale Mamma mia, più odore di caramello Ve lo giuro Sto filmando, sì Raga, comunque è enorme la galletta Cioè, madò Noi, raga È molto più grande Ed è molto più doppia proprio Ma vabbè Nooo, no ragazzi Ma che È una bomba Me l'avevate detto che erano una droga Infatti Sembrano i poppoconi al caramello Ve lo giuro No, raga È assurda Scusatemi Ma io non ho mai provato una bontà Del genere Poi stiamo parlando di gallette Che Cioè, raga Ma infatti Dicevo io La confezione È troppo grande Ma si vedevano Che le gallette Erano molto più grandi No, raga Comunque Queste sono sfiziose Anche quando vi assale Quella voglia di dolce Vi mangiate una galletta E l'avete fatto No, comunque Sto scioccata Sto scioccata Poi dopo valutiamo Tra i due Quale è il più buono Tra cioccolato E caramello Andiamo a assaggiare Quello lì salato Che secondo me Questo è anche La fine del mondo No, raga Sono contenta È vero che costano 6 euro Però, raga Ne vale la pena Sì Almeno per quello a caramello Per il momento sì È quello sfizio Che ve lo togliete una volta Basta Per passato Avete fatto Oppure poi diventerà Una grande dipendenza Attenzione Allora Per 10 grammi Quindi sempre per Galletta Abbiamo 38 calorie Quindi questo rispetto all'altro È molto più basso di calorie 0,3 grammi di grassi 7,9 grammi di carboidrati Anche di carboidrati infatti Zucchero 0,3 Fibre 0,4 E proteine 0,9 Comunque Queste confezioni Sono bellissime Vediamo Vediamo Sardifonsis Oddio Oddio l'ho rotto Comunque Queste le lettere Devo nascondere Poi Oddio Perdo pezzi Io per strada Oddio Stavano cadendo Ok Assaggiamo E' buonissima Ve lo giuro Veramente provare Per credere Si raga Si sente proprio Di formaggio Ve lo giuro Però no Quel formaggio Invasiva Più che altro Invasivo Più che altro Lo sapete Che sembra A parte Fonsis Sembra un po' Come si chiama Un po' di cheddar Però come si chiama Quello lì Che si mette Sui nachos Sciolto Non mi ricordo Come si chiama Però E' lo stesso sapore Adesso mi sfugge Ovviamente come sempre Però è buonissimo Veramente buono Sa di Fonsis Ma sa proprio di Di formaggio E ve lo dico io Che a me il formaggio Non piace Però Buono Veramente Buono 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 Sto scioccata Ve lo giuro Penso che si può vedere Dalla mia faccia Andiamo con l'ultimo Che è No già mi dispiace Spero che fanno altri gusti Ve lo giuro che li prendo I prossimi gusti che fanno Li prendo subito Allora Questa qui è gusto cioccolato Penso che sarà molto semplice Come sapore Però se non mi sarà particolare Allora Per 15 grammi Ha 62 calorie Quindi tra tutti e tre Questo è il più calorico Diciamo Cioè C'è a me 10 grammi Di differenza Però E' quello che ha più calorie Per il momento Grassi 1,1 grammo Carboidrati 12,2 Poi zuccheri 4,5 Fibre 0,3 E proteine 0,9 All'interno ci sono 12 gallette Allora Comunque ragazzi Parlo dopo Parlo dopo Mangiamo prima Cioè Sono proprio belle Queste dolci Queste dolci Sono più belle Di quelle salate Salate C'è tipo quella polverina Sopra Invece Le dolci Sono proprio Sembrano Caramellate Ve lo giuro Lo sapete A primo impatto Che sembra Nesquick La barretta Nesquick Uguale Nesquick 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 Tutte Ma Sono Tutte e due Tre Quelle dolci E quelle salate La salata Al sopra Avete Una classica galletta Con questa polverina Di formaggio Sopra Quindi È particolare Perché è salata Però Se vi dovessi dire Uno solo Che mi è piaciuto Tantissimo Penso che lo starete Dicendo insieme a me È caramello Tra tutte e tre Quello che ne vale Veramente la pena Al 100% È caramello Subito dopo Cioccolato E poi formaggio Sono tutte e tre Buoni Infatti Tra tutti Penso che Acquisterò caramello Quando mi viene la voglia Acquisterò sicuramente caramello Ma non perché Formaggio non sia buono O perché cioccolato Non sia buono Perché assolutamente Sono buoni tutte e tre Ma per me Per il mio gusto personale Il più particolare È caramello Per me quello vince Per me Ci spendo pure 10 euro Per quello Ve lo giuro È troppo troppo buono Però devo dire Che anche cioccolato Non è quel gusto Che Non è quel gusto Scontato È molto buono È molto particolare La stessa cosa Anche formaggio Non sono quelli Vabbè Formaggio Sì Vabbè Di che po' Sapemmo Sono 6 euro Spesi male No raga Per tutte e tre Sono veramente 6 euro Spesi bene Poi Se avete la possibilità E volete provarli Tutte e tre Io vi dico Per una volta Provateli Vi togliete lo spizio Ma per me Il più buono in assoluto È caramello Io spero che anche Questo video di recensione Vi sia piaciuto E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao